... Corro lungo? Non mi piace quando scappa? Corro donante, no? Come la birra! Io vengo solo per vederci scappare là! Esatto, è un mestiere, è un mestiere! E poi vabbè, insomma, la birra tipo Pils! Vuoi fare il chirichetto, domani! Ha dato energia, eh! Grazie al birrificio italiano sono meglio! Allora, grazie per l'attenzione! Ha parlato Marco del nonno materno, Vincenzo Frunzo, ha ricordato quella locandina storica 1959 a Marcerata, pittori d'oggi, pittori di ieri, pittori indimenticati, grandissimi! Non c'è solo Vincenzo Frunzo alle pareti, c'è anche Picasso alle pareti, grazie a Marco Bouticchi! Io inviterei però a vedere le opere del nonno materno da vicino più tardi, quando ci alzeremo, insomma, non avremo le visioni per colpa della birra, insomma, diciamo che saremo questi asiati grazie alla birra e andremo a casa ancor più rapiti e incantati da queste opere. Vi inviterete ad ora a vederle, so che non abbiamo dei grandi spessi,